Stai in stand-by, tu non mi avevi detto che dovevi... Si si, lascialo così, lascialo. No no, tu fai solo, mi vedi, capisci? Vai col filmato. Nel settembre ti inquadro lo stesso. O trovi a un... Ha fatto niente la vicina? Non lo spazio è niente. Ah beh, la sconassi lo spazio è niente, capisci? Si. Mi vedi quando... La donna! La donna! Ma non ce la faccio, la faccio. No, io no. No, non ce la faccio, non ce la faccio. No, non ce la niente. Mi occhiale... Si è rotto? No, no, no. Il video. Si? Ma tu già... Ma tu già... No, non ce la faccio. Ma tu già... Ma tu già...